Con il candidato sindaco di centrodestra a Fiumicino, Mario Baccini, siamo a Fregene, località in cui l'erosione è un problema. Come pensate di affrontarlo? Intanto rivedendo tutti i piani e non facendo interventi spot. Noi dobbiamo considerare che abbiamo 24 chilometri di costa e anche la presenza del ministro Salvini e ovviamente insieme al governo regionale dobbiamo realizzare un waterfront importante, una grande opera e soprattutto la protezione delle nostre coste con investimenti mirati ma supportati anche da progetti che il giorno dopo non ristiamo da capo a 12 come si dice dalle nostre parti. Senta, Fregene è stato ultimamente teatro di episodi di cronaca e ad ammettere che c'è un limite minimo di personale della sicurezza è stato lo stesso sindaco Montino. Come pensa di risolvere questo problema a Fiumicino della sicurezza? Intanto andava risolto in tempi utili perché la percezione che Fiumicino sia solo l'aeroporto è una cosa per noi penalizzante. Dobbiamo avere una questura a tutti gli effetti e una tenenza dei carabinieri potenziare la polizia municipale e un controllo a sé su tutto il territorio. Ho parlato con il questore di Roma, già ci ha mandato un primo dirigente e il prossimo concorso di giugno per nuove persone che verranno assunte in polizia sicuramente Fiumicino sarà premiata in questo senso. Quindi la mia amministrazione lavorerà per rendere sicuro il nostro territorio e non lasciarlo fuori controllo così come ora. Siamo qui con Monica Picca, commissaria della Lega Fiumicino. Cosa si augura per il futuro di Fiumicino? È un progetto virtuoso che siamo veramente in grado di portare avanti grazie a un gruppo, una squadra coesa che vuole solo il bene di Fiumicino. Partendo da quelle che sono le criticità, quindi la mancanza di infrastrutture, i collegamenti con l'aeroporto, abbiamo parlato di connessione, di intermodalità. In realtà un progetto che vola alto partendo dalla soluzione appunto di quelle che sono forse le problematiche più forti. E quindi il ponte della Scafa ha ormai un problema tavico, grandi progetti che grazie alla sinergia delle istituzioni a livello regionale, a livello nazionale e naturalmente grazie a cui speriamo, ci auguriamo con il Comune di Fiumicino con una nuova amministrazione possa risolvere i problemi. C'è sempre più disinnamoramento da parte dei cittadini verso la politica. Oltre al semplice appello al voto, su cosa ti vorrebbe riflettere la politica oggi per avvicinare nuovamente i cittadini alle urne? La politica deve partire dalla base, non deve mai dimenticare che le vere istanze di un territorio sono quelle che la gente ti dimostra e di cui ti parla tutti i giorni. Ecco, se la politica ritorna a parlare non solo alla pancia della gente ma soprattutto ad ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini e ha la volontà di portarle avanti e trovare una soluzione, allora a quel punto la buona politica a cui noi dobbiamo ritornare. Stefano Calandra, candidato per la Lega al Consiglio Comunale di Fiumicino, siamo a Freggene e proprio a Freggene ultimamente è stato teatro di episodi di cronaca e proprio il sindaco Esterino Montino ha dichiarato che mai come oggi si è toccato il minimo storico di personale delle forze dell'ordine a Fiumicino. In che modo pensate di aumentare la sicurezza? Noi, allora, per quanto riguarda, per quanto concerne la sicurezza, il nostro è un cavallo di battaglia e sicuramente sarà un intervento programmatico congiunto con tutte le forze dell'ordine e soprattutto in circostanze di eventi. Questo è quello che noi abbiamo intenzione di fare e poi noi come Lega garantiremo che questo avvenga.